Le tre carte più odiate su FIFA Ultimate Team. Beh, la prima mi sa che la indovinerete per forza. Al trezzo posto il buon Gundogan. Non tanto odiato per la carta, o perché Gundogan, ma per il prezzo. Stiamo parlando di 600k quasi per questa carta. Stiamo scherzando? E poi comunque è uscita un pochino di tempo fa, neanche troppo tempo fa. Orribile. Al secondo posto il buon Pierre Americca Buma Young. Anche lui, per lo stesso motivo, quasi 700k. Carta normalissima, niente di che. Diciamo che se era nel mercato costava forse 200k. Forse no, anche 300, dai. E al primo posto, beh.